madonna raga che sta succedendo oggi sono un mostro vabbè ciao ragazzoli io sono Omar oggi ragazzi vedo un video in cui proveremo a raggiungere 2000 punti visto che ci mancano anche troppi ma bigliacca per ma prima di cominciare iscrivetevi al canale accedete il campanellino e mettete like arriviamo ai 5 like per un prossimo video possiamo iniziare ok ragazzi eccoci qua in partita primo round ovviamente ci sono solo 3 round ovviamente ci togono 20 punti che bello andiamo a dove andiamo della domanda andiamo qua ah lago e l'anguido oh mio dio oh vabbè vabbè raga prima partita ragazzi abbiamo fatto solo non abbiamo neanche fatto punti abbiamo fatto in zero ci mancano ancora ancora di più bene che bene ok ragazzi eccoci qua secondo round andiamo a foresta buco da foresta andiamo porco giù non è vero ok eccoci qua terzo round ed ultimo andiamo la guida per frecare metà l'abbiamo la guida è vero Sì! ne mette uno so pure morire guardate coccolate Madonna che sta succedendo e oggi sono un mostro vabbè ho avuto sua fortuna andiamo avanti ok 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 ecco 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 ecco